Michael alle nove e mezza della sera prima di quella gara ha fame e dice pizza! No Michael perché pizza? Il sera ha detto pizza e quindi è pizza. Lui vive in una suite dove c'è un pianoforte che non sa suonare. Per limitare la tensione ogni tanto fa... Pizza! Pizza! Arrivano cinque pizze. Tim Grover, che è il preparatore atletico della squadra e il suo personale, le apre e dice Michael a me ste pizze non mi convincono, io non la mangio. Gli altri, anche loro dicono ma magari no, Michael mangia la sua e probabilmente qualcuna delle altre. Alle tre del mattino chiama Grover in stanza. Tim, vieni da me. Perché Michael? Sto morendo. In America si chiama food poisoning da noi. Cosa vogliamo dire? Intossicazione alimentare. Grover ad anni di distanza dice che quelle pizze erano state manipolate perché i tifosi degli Utah Jets sapevano che andavano a Jordan. Non sappiamo. Quello che sappiamo è che Michael, fino alle tre del pomeriggio, non è in grado di alzarsi dal letto. Sta per giocare la partita più importante della stagione contro un'avversaria fortissima e non è in grado di alzarsi dal letto. Lo riempiono di fluidi, gli fanno bere tante bibite con tanti sali e lui non è in grado di alzarsi. Quando arriviamo al palazzo, la notizia si è sparsa. Jordan non è in condizioni di giocare. Per una volta, anziché essere mandati sulla tour Eiffel, come succede sempre all'NBA e alle finali, siamo quasi a bordo campo. Sono lì, ovviamente, con Flavio tranquillo. E continuo a passare dalla nostra postazione a bordo campo. Vado a vedere Michael da vicino. Non ha nessuna espressione sul volto, è fermo, immobile e guarda, non saprei dirvi dove. Faccio segno verso Flavio. Flavio, questo, quando mai puoi giocare? Al momento di chiamare i cinque iniziali, Jackson però fa un segno a Jordan. Che si alza, entra in campo, si muove con assoluta circospezione. A questo punto, fatemi una cortesia, chiudete il libro, perché da adesso entriamo nel campo della leggenda. Perché questo termine l'avete sentito tante volte, probabilmente anche abusato da parte nostra, ma in questo caso probabilmente non spiega neanche cosa sta per succedere. Jordan non solo gioca, ma segna 37 punti. Inizia, guardingo, gatto pardesco e poi sale. Ad anni di distanza spiegherà che cosa ha fatto. Jordan, in una scala da 1 a 20, ha a disposizione probabilmente 3 di livello di energia. Quindi, dalle 3 del pomeriggio fino alle 7, memorizza ogni singolo movimento che dovrà effettuare, di modo che quando dovrà giocare, avrà come un copione che avrà inserito nel proprio file interiore che eseguirà. Alla fine della gara praticamente sviene davanti a Peppe. Phil Jackson, che se ne intende, dice non ho mai visto Jordan giocare così bene e se il miglior giocatore di tutti i tempi ha giocato la partita della sua vita, questa è una gara che va messa là. Riapriamo il libro perché obiettivamente non credo si possa definire quello che ha fatto lui quella sera, ma è evidente che essere un grande talento, un grande atleta, serve fino a un certo punto, ma da lì in poi conta la testa e come Michael, di teste non ne sono mai passate.